Allora, vi rubo pochissimo tempo. Intanto grazie, grazie per essere qui. Noi abbiamo voluto raggiungere un collegamento, un nostro amico carissimo che ci fa compagnia quasi tutte le domeniche, anzi, da diversi anni tutte le domeniche in fuori programma, precedentemente in altri spazi, ed è Paolo Pugni, in collegamento da Milano. Io queste cose qui le sognavo ai tempi di novantesimo minuto, qui stadio, voi studio, queste cose qua, in collegamento da Milano. Mi hai fatto vivere un sogno dell'infanzia, grazie. Ma dai, per così poco. Complici anche la presenza, insomma, di Don Pasquale Pio, che tutte le domeniche è con noi da ormai due anni. Bentrovato, buona domenica anche a te. Buona domenica a voi. Il coronavirus ci ha uniti. Se non ci fa stare vicino fisicamente, la webcam ci unisce. Buongiorno. È un onore per me, soprattutto, avere insieme a Don Pasquale Paolo Pugni. Paolo, da Milano, che si dice in quel paese così lontano, ma così vicino in questo momento? Ma allora, è un momento complesso. Stiamo guardando al futuro, perché l'unica speranza che possiamo avere è quella. Possiamo cominciare a immaginare cosa sarà il mondo nuovo. Perché sicuramente c'è la convinzione, a parte che lo stanno dicendo anche gli esperti, quelli che sono esperti che scrivono sui giornali, da economisti a statisti e altro, che comunque andremo a finire in un mondo nuovo. Alla fine di questa guerra, perché adesso c'è qualcuno che non ama i termini bellici, ma alla fine dei conti chiamiamola com'è, chiamiamola con quei termini che sono nel cuore dell'uomo alla fine, no? Perché poi dobbiamo parlare alle cose che l'uomo capisce e vede. Questa è una guerra, certo non è una guerra fra persone, è una guerra con un virus. Siamo tutti alleati, per fortuna, a differenza di altre guerre, ma alla fine quello che stiamo vivendo è questo. Ci sono persone in trincea che affrontano a mani nude il nemico e qualche volta muoiono. Non eravamo più abituati a anche un effetto collaterale del proprio servizio. Sacerdoti, il Papa ricorda spesso i sacerdoti che sono morti. Nei giorni scorsi si celebravano nella Bergamasca più di 20 sacerdoti che sono caduti sul campo a fianco delle loro persone. E dopo le guerre il mondo cambia, quindi noi stiamo cercando di capire come sarà il mondo dopo, perché non è che abbiamo spento una luce, la riaccendiamo a settembre e riparte tutto come prima. E quindi quello che si sta facendo qui a Milano è cercare di guardare a quello che verrà dopo. Il silenzio è quello che impressiona, perché non siamo abituati noi milanesi al silenzio. Forse voi che avete la possibilità di guardare alle stelle in silenzio, per voi è meno impressionante perché avete questa fortuna. Qui non c'era, invece adesso guardiamo le stelle in silenzio e ci guardiamo dai balconi. Ecco qua, questo è stato il caffè in diretta, Don Pasquale. Abbiamo oggi questa fortuna di avere Paolo in collegamento con noi ed è un caffè su cui riflettere. Inconsapevolmente forse Paolo l'ha versato oggi. Sì, io da un po' di tempo stavo riflettendo proprio su questo, anche sulla dimensione di cui prima parlava Paolo, un po' ricollegandomi a quella famosa espressione che Papa Francesco qualche anno fa ha detto, ormai non viviamo più in un'epoca di cambiamento. Viviamo in un cambiamento d'epoca. Quindi stiamo vivendo questa fase di transizione da una umanità ad un'altra e speriamo sia migliore di quella che ci siamo un po' lasciati alle spalle. Come diceva giustamente Paolo, a settembre non si può pretendere di riaccendere tutto come se niente fosse accaduto, perché stiamo vivendo un periodo in cui rimoduliamo il nostro essere, le nostre relazioni, il nostro modo di fare, di comportarci. Scopriamo l'importanza di certi valori che davamo per scontati, che invece scontati in fondo non sono. A partire dall'uscire di casa la mattina per andare al lavoro, all'andare a prendere un aperitivo con i nostri amici, al celebrare la messa la domenica. Niente scontato. Noi riscopriamo in questo momento la vita, le relazioni, le cose come un dono. Niente possiamo pretendere, niente possiamo pretendere per dovuto. Non c'è niente dovuto. La vita è così fragile che è esposta veramente ad un turbinio di eventi e di situazioni che possono capitare da un giorno all'altro e che noi non possiamo prevedere. Uno dei difetti che ha l'uomo moderno, secondo me, è quello di voler tenere per forza tutto sotto controllo. In questo tempo noi ci accorgiamo che non è così. Non possiamo prevedere niente, altro che oroscopi, altro che previsioni su un futuro più o meno incerto o certo. Non possiamo pretendere di sapere niente, ma tutta la vita è consegnata alla storia. Ecco diceva bene anche Enri de Liubat, riguardo al radicamento nostro nella storia. Noi dobbiamo essere obbedienti alla storia, altrimenti rischiamo, se ci ribelliamo, di reciderci da questo tronco che ci tiene in vita. Noi non possiamo pretendere di vivere al di fuori del tempo che ci viene imposto, se vogliamo essere fecondi, altrimenti possiamo isolarci in una beata solitudine che in fondo in fondo tanto beata non è. Paolo, vedevo annuire. Sì, volevo aggiungere una cosa perché è estremamente stimolante, poi è bellissimo poter chiacchierare così in diretta. Allora, proprio questa ribellione, proprio qualche giorno fa ho pubblicato un caffè un po' provocatorio perché qualche volta ci vuole anche questo, no? Parlando di contrappasso, parlando di hybris del mito greco e latino in particolare. Ma anche la scrittura ci dice, la chiesa ci dice che qualche volta il Signore come fa a far capire le cose al peccatore? Lo lascia andare avanti in quello che lui desidera, no? Quindi questo che vuoi vai avanti. E allora per certi versi il nostro mondo adesso sta vivendo quello che desidera, no? Sto pensando alla solitudine per esempio. Abbiamo voluto recidere i legami, distruggere la famiglia, faccio quello che voglio, vivo da solo perché alla fine quello che mi interessa è che io decido, ho il controllo sulla mia vita, non ho bisogno di legami. I legami con gli altri ce li ho soltanto quando mi fa comodo, mi fa piacere. E adesso prenditela, sei da solo a casa perché in questo momento siamo chiusi a casa e vedi in giro persone, leggi sui social persone che sono arrivate quasi alla disperazione perché sono a casa da sole 24 ore su 24. L'unico sfogo che hanno è scrivendo qualcosa sui social, magari una web call come questo. Amici che si ritrovano da soli a fare le cene insieme collegati su Skype per esempio. Cioè c'è l'esasperazione di quei vizi, posso usare questo termine in maniera anche provocatoria, che abbiamo voluto inseguire, no? La recisione di ogni legame. Le relazioni le gestisco io, la famiglia non serve, disprezzo queste cose qui. Adesso sei chiuso in famiglia, ci devi vivere assieme con le persone che magari per te non erano importanti. soltanto a lavorare, questo lo penso un po' da milanese imbruttito, uno dei problemi che stiamo vivendo qui è che apparentemente hai più tempo ma in realtà non è vero, ne hai di meno. E che la mancanza di quei riferimenti che davamo per scontati, una cosa fondamentale su cui riflettere, fanno sì che i giorni alla fine siano tutti uguali, non capisci più che giorno della settimana è, la domenica non la distingui più dal resto. Per cui finisce che lavori dalla mattina alle sette, alla sera alle otto, ininterrottamente, non ti rendi conto neanche che è sabato, che è domenica, che è venerdì. Io mi devo ricordare il venerdì di quaresima per rispettare la quaresima, perché perdi di vista il giorno della settimana. Sono giorni uguali che colano uno dietro l'altro, facendo le stesse cose, lavorando a oltranza. E anche questo è un modo per metterti di fronte. Volevi far questo, volevi che il lavoro fosse la cosa più importante e alla fine tienitelo. Cioè c'è una lettura davanti alla quale dobbiamo veramente fermarci, interrogarci e dire cosa mi sta insegnando questo tempo? È un tempo che alla fine mi permette di essere diverso e migliore dopo, oppure mi incattivisco ancora di più? È vero, è verissimo questo. Questo tempo che stiamo vivendo ci porta a riflettere su tantissime cose. A proposito di solitudine, possiamo dire che ne esistono tre tipologie di solitudine, no? Quella sociale nei confronti degli altri, psicologica con se stessi e poi metafisica, solitudine rispetto a Dio. E diciamo che in questo momento ci stiamo un po' ritrovando tutti sulla stessa scena, sullo stesso campo, tra virgolette, di battaglia per combatterla. Sì, se posso dire ancora una cosa proprio su questo. Allora, è evidente che nei momenti di difficoltà c'è un ritorno dell'attenzione alla divinità, se non altro per scaramanzia, no? Come diceva Labanoni, proviamo anche con Dio, non si sa mai. Quello che forse questo momento ci sta aiutando di più a vivere è che non è un momento breve. Perché se io ho un momento di difficoltà che dura una settimana, 15 giorni e mi rivolgo a Dio, poi quando le cose tornano prima, come succede spesso, dici vabbè, ok, grazie, adesso hai dato, ho altro da fare. Quando la cosa va avanti per mesi, come si prevede, perché tutto sommato è già passato più di un mese, ma non è che al 3 aprile magicamente ci ridanno tutto, probabilmente andremo avanti tutto aprile, forse anche una parte di maggio, quindi quando questa cosa diventa veramente abitudine, gesto comune, allora cambiano le cose. Anche soltanto i dati, il rosario recitato insieme, lanciato dal Papa qualche tempo fa, qualche giorno fa, 4 milioni di ascoltatori. La messa del Papa che adesso va addirittura su Rai 1, non è più soltanto su Vatican News, ma va su Rai 1. E sono indicazioni che alla fine la gente un po' più di attenzione a queste cose ce le sta dando. Coppie che si vedevano a distanza, che dicono adesso appena, lo scrivono, appena finisce questa cosa ci sposiamo. Anche questo è un segnale che forse c'è veramente una ricchezza dentro queste cose. E nel dire che c'è una ricchezza non si vuole negare il dolore, perché a volte hai l'impressione che se parli troppo, non in positivo, ma di questi fili positivi, questi doni, sembra che sminuisci quelli che stanno piangendo, soffrendo e lottando. No, 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 non voglio assolutamente sminuire quelli. Ma voglio dire che di fronte a queste cose o vai a cercare il filo che ti aiuta a tirarti fuori, o altrimenti c'è solo la disperazione, il cielo chiuso. E' vero. Avete voglia di stare un altro po' insieme? Avete tempo? In qualche altro minuto, magari. Fermiamo un attimino. Per me non c'è problema. Un attimo e continuiamo, visto che la discussione è molto, molto interessante. Riprendiamo questa riflessione sul tempo che stiamo vivendo. Insomma, abbiamo dedotto, da quello che diceva Paolo, da quello che diceva Don Pasquale, è che siamo rinchiusi e lontani dai nostri cari per capire quanto sia importante un abbraccio, il contatto umano, il dialogo, la passeggiata. Da questi gesti, insomma, dobbiamo ripartire, dobbiamo ripartire. Questa passeggiata che tra qualche tempo, insomma, avremo il piacere di rifarla. Sì, sono andato a correre nella corsia dei box per poter fare qualcosa a norma di regolamento. È vero, Don Pasquale e agli amici che ci seguono da casa, Paolo è sportivo, esperto in comunicazione. Sì, ma l'avevamo capito, che fosse sportivo l'avevamo capito. È vero, dalle tante maratone che abbiamo seguito a distanza. Ecco, perché noi a distanza lo eravamo già, ma molto, molto legati. Paolo, come sta procedendo? Insomma, la vita del milanese imbruttito lo abbiamo capito. Noi vi siamo molto vicini, pur essendo al sud, in questo, siamo molto, molto... Mandateci un pacco da giù, che fa sempre comodo. Ma arriverebbe... È vero, è una bella idea quella, è una bella idea. Tanto le post funzionano, i corrieri funzionano, quindi è sicuro che arriva. È bellissima questa combinazione che oggi abbiamo creato. Cosa si pensa quando si pensa al futuro? Lo abbiamo già detto, non ripartirà tutto così perfettamente nel momento in cui finisce questa crisi, ma dobbiamo metterci del nostro anche adesso, in questo momento, per poi far andare avanti il futuro per bene. La parola a chi se la prende? Prego, Paolo. Allora, due cose solo dal punto di vista economico. Sicuramente ci sarà da ricostruire molto, perché in questo momento quello che vedo è una disattenzione, forse perché si è più concentrati sull'attimo presente, ma una disattenzione verso molte categorie importanti del paese. Milano, la Lombardia, ha molta presenza di piccole e medie imprese, di partite IVA, che è il modo con cui si lavora attualmente. Non c'è interesse, questa promessa dei 600 euro per un mese è lemosina, se posso usare un termine, poi non vado oltre perché non voglio certo andare a toccare delle storie di questo tipo. Quello che sicuramente sarà diverso, sarà la voglia che avremo. Ne parlavo con mia moglie poco fa, dice, quando finisce tutto questo, quello che io voglio vedere, mi diceva voglio vedere il mare, voglio tornare a vedere il mare. Però una cosa importante, parlando anche con altri, diciamo vorremmo vedere il mare, ma come? Come prima o no? Cioè vogliamo vedere il mare su un'isola deserta o vogliamo vedere il mare a Rimini in 87, in un metro quadro o anche meno, tutti a contatto uno degli altri? Cioè che paura ci rimane? I grandi assembramenti, i grandi eventi, questo stare insieme, sarà come prima o no? Perché probabilmente, ma parliamone, no? Non so se avremo più tanta voglia, visto quello che è capitato e che ci hanno fatto capire degli assembramenti di ancora vivere insieme a contatto così incollati come una volta. Questo, per esempio, avrà una ripercussione fortissima su tutto il mondo del turismo, della ristorazione, degli eventi, cioè tutta una parte che teneva in piedi l'Italia. Allora, nell'immaginare dove andremo... Per esempio, noi stiamo lavorando con le scuole. Per le scuole è un cambio di mentalità veramente importante. Io apprezzo moltissimo gli insegnanti che si sono trovati per primi il 24 febbraio catapultati in un mondo che anche magari per problematiche diverse ignoravano. La scuola ha tante qualità, sicuramente tra queste non c'è quello dell'innovazione o dell'essere di frontiera, dell'essere i primi, gli early adopter, come vengono detti. Eppure gli insegnanti sono rimboccati le maniche e si sono messi a inventare una didattica nuova. Allora, questa roba qui non può essere dimenticata a settembre, ottobre o quando ripartiremo. Non è che allora abbiamo scherzato, basta. Quindi c'è veramente... Quello che stiamo facendo noi adesso era pensabile anche soltanto un mese fa, due mesi fa? Probabilmente no. Io vedo amici del mio gruppo di corridori che si trova tutte le sere alle 6 per fare ginnastica insieme su Zoom. Quindi cambierà proprio questo aspetto. Cambierà anche nelle relazioni interpersonali. Quindi qui lascio la parola magari a Don Pasquale che ci dice qualcosa di più su come vede il cambiamento anche nelle relazioni con la Chiesa. La Chiesa anche questo sta facendo dei passi, non so se avanti o meno, ma comunque una differenza. Le nostre attività di formazione spirituale le facciamo con Skype, con Google, perché non possiamo trovarci e riunirci e quindi tutte le settimane abbiamo una nostra oretta di meditazione, di ragionamento, di contatto con un sacerdote attraverso la rete. Sì, anche in questo, anche per quanto riguardano le questioni più prettamente vicine alla comunità cristiana, c'è da rivedere un bel po' di cose, perché questa fase di transizione che stiamo vivendo ci deve lasciare qualcosa di positivo, deve lasciare un'impronta un po' più umana anche alle nostre comunità. Io se da un lato vedo il desiderio di tanta gente di ritornare a riconquistare i posti in Chiesa, quindi a ripopolare le parrocchie, a riprendere gli incontri, però dall'altro lato temo molto la disaffezione che sta circolando specie tra i giovani, perché molti, ci dobbiamo dire la verità, si stanno un po' adagiando sul fatto che ormai la messa seguita in televisione, quindi seguita comodamente dal divano di casa, è il surrogato migliore per sostituire quella in presenza. Ecco, io non vorrei che tra i cristiani serpeggiasse un po' questa idea del fatto che quello a cui ci stiamo abituando ora, che è la mediazione di uno schermo, possa surrogare tranquillamente anche il contatto e la vicinanza fisica, ma viene meno così tutta la logica dei sacramenti, perché i sacramenti sono contatti. Adesso, vi faccio un esempio, la settimana scorsa mi ha chiamato una neomamma che mi chiedeva se fosse possibile fare un battesimo a distanza. Io ho detto, ma sai, l'eucaristia è reiterabile, quindi si può seguire dalla televisione, si può seguire in tv, si può seguire dalla radio, ed è possibile fare anche la comunione spirituale, perché è tradizione della Chiesa che chi non può accedere direttamente alla carnalità del sacramento, chi non può ricevere l'ostia fisicamente, la faccio almeno spiritualmente, ma il battesimo richiede un contatto, richiede una mediazione sensoriale. Io ho bisogno di toccare la fronte del bambino con l'olio, ho bisogno di battezzarlo con l'acqua, c'è bisogno che al papà venga consegnata la candela con il ciro acceso, piuttosto che al bambino venga messa addosso la veste bianca. Quindi, purtroppo, dico purtroppo, si è arrivati un po' anche a questo, e bisogna stare attenti. Cioè, io penso che la nuova frontiera dell'educazione fatta nelle parrocchie dopo questo periodo sia una nuova comprensione della comunità, cioè un recupero di quella sensorialità, di quella fisicità che in questi giorni è venuta a meno. Adesso dobbiamo arginare un grande pericolo che secondo me è quello della disaffezione, della disaffezione agli incontri, perché, come diceva prima Paolo, è un periodo a doppio taglio. Cioè, può essere una cosa positiva, perché può stimolare in alcuni il desiderio di ritornare a fare le stesse cose che si facevano prima, magari anche più di prima. Però, dall'altro lato, ci potrebbe essere anche il caso di qualcuno che si rinchiude ancora di più nella solitudine che forse già sta vivendo adesso e che stava vivendo già prima. Quindi bisogna stare attenti. Il futuro è un po' nebuloso sotto questo punto di vista, però c'è una speranza, c'è quella luce gentile di cui parlava Newman, che ci conduce e ci fa un po' d'affaro in questo porto che adesso è un po' sballottato da tante mareggiate. Ecco, c'è un naufragio e noi non siamo soltanto spettatori, ma siamo attori, attori protagonisti. È stato un bel momento da vivere insieme. Allora, si spera che non si regredisca, ma ci si evolva con il tempo, perché questo è il rischio. Io sono strafelicissima oggi. Insomma, questa è una situazione per avervi tutti contemporaneamente. Paolo, da Milano, tanti chilometri ci dividono, ma siamo stati vicinissimi in questo momento. A questo punto, quando si riapre tutto, vengo per forza, perché il prossimo passo è farlo insieme. Ti aspettiamo! Sarai nostro sfide con piacere e con gioia. Vediamo se nel frattempo riusciamo a inviarti un pacco. Ok, io vi ringrazio, vi abbraccio virtualmente. Grazie mille, grazie. Adesso vi abbraccio tutti. Un abbraccio alla famiglia di Paolo, anche per i voti Paolo, tanti figli, tutti molto attivi, anche socialmente. Grazie Paolo, ancora una volta. Grazie a te. Grazie a tutti, un abbraccio forte. Superto, grazie Don Pasquale per la tua compagnia anche oggi. Buona vita a tutti. A voi.